Ciao a tutti, bentornati al nostro approfondimento con le notizie della Diocesi di Livorno. In questa decima puntata parleremo della vita, del movimento per la vita, parleremo di bioetica e parleremo anche della Quaresima. Qui con noi Daniela Musumesci, responsabile del movimento per la vita di Livorno. Quali sono le prossime attività in programma? C'è un'attività veramente con scadenza il 31 marzo, rivolta agli studenti degli ultimi tre anni delle scuole secondarie e degli universitari fino a 25 anni. Di che si tratta? Si tratta di un concorso con premio Strasburgo, cioè il Parlamento europeo, visita a questa nuova, ormai non più nuovissima, ma comunque sempre nuova istituzione che è l'Europa Unita. Bene, qual è la finalità di questo concorso che il movimento per la vita da ben 25 anni istituisce? È l'invito ai giovani a una riflessione sui diritti umani. Quale sarà l'Europa di domani? Che poi è nelle mani dei giovani, infatti il titolo è proprio questo, l'Europa di domani nelle vostre mani, rifacendosi a una frase di Giovanni Paolo II che fece proprio ai giovani nel 1987 invitandoli a farsi parte attiva, promotori dei diritti umani. Quali diritti umani? Sembrerebbe forse assurdo questa domanda, ma non è così assurdo. Se l'Europa del secolo scorso ha vissuto tragedie in mani come le guerre mondiali e tutti i razzismi che ci sono stati, non è che oggi questo non si riproponga. Vi cito soltanto questo esempio, due settimane fa circa, il Parlamento danese propone di avere una Danimarca free dai down e propone anche la data, nel 2030 si augurano che la Danimarca sia down free, cioè non ci saranno più bambini malati down. È un segnale molto pericoloso. Quindi bisogna rivedere sempre le conquiste fatte in tema dei diritti umani. Per questo il concorso invita a questa riflessione. E i ragazzi che hanno già partecipato al concorso cosa ne pensano? Ma io tra tutte le testimonianze che ho letto, perché ho letto il giornale, mi è piaciuta quella di Sara Alfriuli Venezia e Giulia che dice quella del viaggio premio a Strasburgo è stata un'opportunità indimenticabile che mi ha arricchito di culture e amicizie. Mi ha fatto crescere umanamente e mi ha fatto rendere conto che anche nel mio piccolo posso fare tanto per gli altri. Penso che sia una cosa bella per tutti i ragazzi di oggi fare questo concorso. È un'opportunità. Come si partecipa? Si partecipa o con un tema o con un disegno o addirittura con una rappresentazione tipo PowerPoint. Libera la fantasia, riflessione sui valori e presa di coscienza in modo che l'Europa di domani sia veramente l'Europa dei diritti umani dalla nascita o meglio dal concepimento fino alla morte naturale. Col mercoledì delle sceneri siamo entrati nel tempo di Quaresima. Che cosa dovrebbe caratterizzare la nostra vita in questi 40 giorni di attesa della Pasqua? Mi siete mai domandati perché sono 40 giorni. Perché ha somiglianza dei 40 giorni di Gesù nel deserto. E come Gesù in quel periodo nel deserto combattì contro il demonio dice anche noi bisogna combattere contro il demonio. E il demonio è c'è e ti guardi nel tuo cuore a volte e ti scopri cattivo oppure scopri delle persone cattive come non mai. Allora bisogna combattere contro il male, combattere contro il demonio che è anche dentro di noi. E questo è un tempo allora con la preghiera, con questo impegno di ascoltare di più Gesù, con scoprire la figura di Gesù, vedere di avvicinarsi sempre di più al Signore per diventare sempre più buoni, più grandi, più capaci di sapere amare. Vedi, se te scopri che Dio ti ama immensamente poi va a finire che gli vuoi bene a chi è, sempre di più. E noi cerchiamo di voler bene a tutte le persone, soprattutto ai più poveri e per questa quaresima, insieme alla Fondazione Cassa di Risparmio, alla nostra Fondazione Caritas, dà vita una grande raccolta in tutta la città per le famiglie che sono in grosse difficoltà economiche. E cercheremo di aiutarle sempre più, già stiamo facendo diverse cose, altri progetti partiranno perché purtroppo in città tante famiglie sono in difficoltà. Vediamo che insieme ci si può fare. Intorno a noi ci sono tante povertà che però sfuggono ai nostri occhi. Sono le povertà invisibili, situazioni e persone che non manifestano platealmente i loro disagi per diversi motivi, ma che richiedono uno sforzo per scoprirle e sostenerle con la solidarietà. A questo tema è stato dedicato il convegno diocesano di Quaresima che ha visto l'intervento di Don Bruno Frediani, fondatore del CEIS, Gruppo Giovani e Comunità di Lucca. Monsignore Ezio Morosi ha ricevuto per richiesta del Vescovo il titolo onorifico di Protonotario Apostolico, concesso dalla Segreteria di Stato Vaticana. Monsignor Giusti ha voluto ringraziare Don Ezio per il suo lungo servizio come prete diocesano e ha rinnovato il suo incarico di Vicario Generale. Il prossimo 13 marzo alla Parrocchia San Benedetto partirà l'esperienza pilota di un laboratorio di educazione alla carità organizzato dalla Caritas Diocesana. Cinque percorsi formativi per la crescita umana e spirituale di adulti, giovani e ragazzi, incentrati sulla carità come stile di vita. Durante l'anniversario per i 50 anni della parrocchia, Nostra Signora di Lourdes nel quartiere di Collinaia, è stata inaugurata la nuova tana dei Lupetti del Branco Livorno 9. Dopo la messa presieduta da Monsignor Bertelli, Vescovo Emerito di Volterra, la comunità scout ha fatto festa con giochi e doni che hanno coinvolto tutta la parrocchia. La parrocchia dei Santi Cosma e Damiano in Nugola ha inaugurato il nuovo oratorio per i ragazzi, un luogo di ritrovo tutto dedicato a loro, in cui giocare, riflettere, pregare e stare insieme, al via inoltre anche il coro parrocchiale e gli incontri con le famiglie. Chi è l'uomo? Dalla biologia il suo mistero. Era questo il titolo della conferenza che il professor Stefano Semplici, filosofo all'Università di Tor Vergata e primo italiano presidente del Comitato dell'UNESCO per la bioetica, ha tenuto nel Salone della provincia. Ascoltiamolo ai nostri microfoni. Inizio e fine vita, utilizzo delle cellule staminali, donazioni di organi, tutti i temi della bioetica che lei sostiene non vadano affrontati con l'elmetto in testa. Che significa? Significa una cosa molto semplice. Lei ha citato un elenco di temi tutti estremamente importanti e tutti estremamente complessi. Affrontarli con la logica dell'elmetto in testa, appunto, significa coltivare l'illusione che è purtroppo tale che esista qualcosa come un principio passepartout, che come una chiave che ci permette di aprire qualsiasi serratura, così dovrebbe permetterci di dare una risposta immediata a ciascuno di questi problemi, schierando le persone da una parte o dall'altra nello stesso modo rispetto a ciascuno di essi. In bioetica questo purtroppo non è possibile. Occorre prendere la via lunga di una riflessione serena, seria e molto attenta ai dati che la ricerca scientifica ci propone, senza tuttavia pensare che possa essere la scienza da sola a rispondere a domande di questo tipo. Lunedì 27 febbraio alle 18 nel Salone Parrucchiale della Chiesa della Rosa incontro del Serra Club sul tema Papa, Pio XII e gli ebrei, leggenda nera e verità storica, con il professor Tornielli. Martedì 28 febbraio alle 19, Santa Missa in suffragio di Don Giussani, alla Chiesa di Santa Giulia. Giovedì 1 marzo alle 18.30 incontro con i Cresimandi in Vescovado, alle 21 in Vescovado Consiglio Pastorale di Ocesano. Sempre alle 21 alla Chiesa di Santissimi Pietro e Paolo incontro tematico su Don Quilici intitolato La relazione con Dio, Dio è per tutti, interviene Don Luigi Verdi della Fraternità Romena. Venerdì 2 marzo alle 17.45 presso la Chiesa Valdese, giornata mondiale ecumenica delle donne organizzata dalla Chiesa Valdese in collaborazione con il SAE. Domenica 4 marzo alle 11 Santa Missa in Cresime alla Parrocchia della Rosa, alle 16 ritiro di Quaresima delle Religiose all'Istituto Maddalena, dal titolo Educarci alla conversione personale e comunitaria. Martedì 6 marzo alle 18 in Vescovado presentazione del nuovo catalogo del Museo Diocesano sugli Argenti. Alle 21 alla Chiesa di San Simone e Immacolata Concezione presentazione del libro, poscritto a Concilio Vaticano II, una storia mai scritta, alla presenza dell'autore professor Roberto De Mattei. Mercoledì 7 marzo alle 21 incontro dell'Associazione a Blondi alla Parrocchia della Santissima Annunziata dei Greci. Giovedì 8 marzo alle 21 Assemblea delle Aggregazioni Laicali in Vescovado. Sabato 10 marzo alle 15 alla Parrocchia di Santa Lucia convegno catechistico dal titolo Il Dubbio, relatore della giornata Don Gianfranco Carrarese. Grazie per essere stati con noi, ci vediamo tra 15 giorni e se volete ci potete guardare su www.diocesedilvorno.it. Ciao! Grazie per la visione!